Occupata all'Asla ancora una volta da parte dei lavoratori della nuova Ises dopo la fumata nera di ieri sera alla regione alla presenza di sindacati rappresentanti dell'Asla, nuova Copp Ises e del sindaco di Eboli Massimo Cariello. E' stato Cariello a verbalizzare che la proposta dell'Asla è generica ed è peggiorativa e non migliorativa. Delusi i sindacati presenti nella riunione, Angelo Di Giacomo, CGL, Antonio Di Sio, Cisler, Rorando Scotillo, Fisi. Prosegue l'occupazione, prossima tappa, incontro con il prefetto. Non arrivano per niente le risposte che dal verbale che noi abbiamo fatto ieri in regione abbiamo chiesto e abbiamo fatto delle domande ben precise a cui non abbiamo avuto risposta. Addirittura io personalmente ho chiesto al dottor Postiglione, al dottore Podda e all'Asla se l'accreditamento della nuova Ises è in essere oppure è inesistente. A questa mia domanda, come al solito, non hanno dato nessun tipo di risposta, tanto che abbiamo dovuto anche avere una discussione molto accesa per rilasciare un verbale per iscritto. Dopo questo incontro credo che saranno interrotti con le istituzioni e passeremo direttamente sia dal tavolo prefettizio che poi passare alla parte legale. A quel punto saranno le autorità competenti a decidere sul futuro o meno della nostra cooperativa. Ricordiamo di quanti lavoratori stiamo parlando, di quante famiglie? Noi stiamo parlando di molte famiglie, considerate che c'erano 90 semi internati, 24 internati, stiamo parlando di 230 prestazioni al giorno. Stiamo parlando di un disagio sul territorio indescrivibile, anche se di fronte a questa concreta realtà l'Asla dice che il fabbisogno sul nostro territorio è zero. Ci sono invece delle liste d'attesa che vanno da un anno a due anni a seconda del trattamento che devono avere, per cui noi riteniamo che sia stata fatta una verifica sul territorio veramente di questo fabbisogno che c'è. Possiamo dire una sola cosa, che se una volta avevamo un 10% di dubbio sulla faccenda, ieri ci hanno dimostrato la piena indisponibilità nei confronti del centro e abbiamo capito noi sindacati, CGL, CISL e FISI che questi ragazzi, questi signori hanno non solo ragione al 100% ma al 1000%. È solo che non hanno trovato la volontà di aggiustare la situazione, di migliorarla, anzi no migliorarla, addirittura di farli partire a lavorare. Perché in questo momento non si può decretare la morte di un'azienda dicendo che budget zero, riaprendono una nello stesso momento. Guardate la delibera dell'Asela e vi ritenerete conto. Relativamente ai fondi c'è da denunciare, perché questo sottolinea la parola denuncia, che mentre loro dicevano a noi che il fabbisogno delle prestazioni sanitarie era pari a zero e soldi in cassa non ce n'erano, loro accreditavano un altro centro della zona prevedendo un budget per gli anni 2018 e 2019. Ma la verità dov'è? Questi soldi ci sono o non ci sono? O non ci sono solo per la nuova ISIS? Grazie.